la sfida che Renzi ha l'avvento, mentre sfida noi e quindi il resto del paese che vogliamo farlo, troveremo un'intesa aperto a tutti, soprattutto scelti sulla base delle competenze. E' sicuramente una squadra rinnovata, non so se ci sono le correnti, perché non faccia pesare i propri voti, ma piuttosto che è sempre stato, quando abbiamo fatto l'accordo con Berlusconi, noi siamo rimasti... Io mi auguro che l'agenda che vinca sia l'agenda Italia. L'agenda Italia, anche valorizzati di più, magari con 140 dipendenti, che vengono la differenza da me e te. E' la vita, coraggioso, no? La bicameralismo perfetta, ha parlato di taglio ai posti della politica, però siamo i primi del diritto del Senato per parlare di un rapporto con i sindacati, è stato molto chiaro. C'è la flessibilità di entrata per chi non ha soltanto un problema in cui si vede una partita di gente, una giovane, un'altra parte di gente, 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 un'altra parte di gente. Tu come stai bene e io come stongo, io che te. Uno sorride che com'è, l'altro piange cosa. Io ne. E penso sia un errore. Grazie a tutti.